analizziamo i dati di targa del motore elettrico abbiamo n 1400 giri al minuto la potenza abbiamo detto che di 250 watt la velocità angolare omega 2 pi greco n fratto 60 vale 146,53 radianti al secondo il momento torcente risulta essere quindi pi fratto omega quindi 250 fratto 146,53 1,706 newton metro il momento torcente all'albero d'entrata del reduttore è questo il momento torcente sull'albero della vite senza fine quindi m2 e due volte mt quindi 3,412 newton metro il momento torcente teorico all'uscita del reduttore è 51 m2 quindi 174 newton metro adesso qui abbiamo un secondo riduttore gruppo moto riduttore a vite senza fine di esecuzione leggermente diversa n vale 1330 giri al minuto la potenza di targa indicata è di 0,18 chilowatt quindi 180 watt da questo ricaviamo omega 1330 3 14 2 per 60 diviso 139 9,2 radianti al secondo il momento torcente risulta essere 180 diviso 139,2 1,29 29 29 3 newton metro questo riduttore è diverso ha un rapporto di trasmissione 7,5 quindi per un giro dell'albero d'uscita il motore compie 7,5 giri e mezzo quindi il momento d'uscita teorico quindi non tiene conto del rendimento meccanico del sistema vale 7,5 rapporto di trasmissione per 1,293 uguale 7.5 per 9,698 newton metro poco meno di 10 newton metro ora qui noi possiamo valutare se applicando un momento torcente di 10 newton metro all'albero riuscita riusciamo a invertire il moto anzi vedremo che sarà molto più facile non saranno necessari 10 newton metro per invertire il moto del riduttore nell'altro caso noi dovremmo cercare di applicare 174 newton metro nel riduttore precedentemente esaminato per tentare di invertire il moto vedremo che questo non sarà possibile grazie a tutti a presto a presto ho realizzato appositamente l'albero per poter mettere in rotazione il moto riduttore applicando un momento torcente all'albero d'uscita l'alberino è molto semplice è tenuto semplicemente dall'attrito fra le rondelle e lo spallamento opposto ma questo è sufficiente perché già si può vedere che ruotando con la forza della mano è possibile far ruotare l'albero d'uscita del riduttore e quindi vedere anche ruotare il motore con questa chiave dinamometrica sarà possibile misurare perciò l'eventuale se misurabile coppia d'attrito che il riduttore oppone al moto questa coppia d'attrito la coppia che misureremo che appunto sarà la coppia necessaria per mettere in rotazione il moto riduttore quindi riduttore e motore elettrico è in buona sostanza la misura degli attriti interni quindi è la misura della coppia quindi in buona sostanza del lavoro perso in attrito per il funzionamento del moto riduttore conoscendo la coppia motrice del motore conoscendo quindi il valore della potenza entrante possiamo rilevare l'energia persa per attrito quindi la potenza persa per attrito ovviamente nota la velocità e quindi determinare il rendimento del sistema ovviamente questa è una misura approssimata perché parliamo di un remoto riduttore usurato e quindi sicuramente saremo in condizioni peggiori rispetto alle condizioni ottimali da riduttore pienamente efficiente questa chiave dinamometrica è di vecchia data è stata costruita in inghilterra e misura il momento torcente in unità anglosassoni il pregio di questa chiave è che rispetto a quelle cosiddette a scatto ha un indice che mostra il valore della coppia massima che si raggiunge durante il serraggio della vite e quindi uno può sia limitare il valore della coppia sia avere una indicazione del valore a cui è arrivato quindi ci permette anche di compiere delle misure non c'è nessun problema per la conversione delle unità di misura perché questa riporta la coppia in libre per pollice la conversione in newton metro non è difficile sul retro mi sono fatto una tabella che riporta la conversione fra libre pollice e newton metro quindi questa chiave ha un campo di impiego che va circa da 1 a 10 newton metro circa da 5 libre pollice da 10 libre pollice fino a 120 quindi possiamo arrivare anche oltre i 10 newton metro è una chiave di precisione quindi molto molto affidabile perciò azzerando l'indicatore di massima possiamo mettere in rotazione il riduttore e misurare la coppia una prima misura fatta mi dice 10 libre per pollice ma se io lavoro molto più lentamente procedo molto più lentamente il valore della coppia a cui si ferma l'indice è più basso qua siamo a 7 circa siamo al valore inferiore della scala limite inferiore della scala quindi bisogna considerare che a bassi valori potrebbero non essere del tutto precise le indicazioni se aumentiamo la velocità il valore della coppia assegnata cresce qui siamo a 12 13 circa libre per pollice proviamo ad aumentare ancora un po ecco siamo arrivati a 18 libre per pollice quindi diciamo che nell'ipotesi di un funzionamento alla velocità nominale da questo riduttore possiamo aspettarci una perdita di momento attorcente all'uscita diciamo intorno alle 15 libre per pollice cioè quanti newton metro 17 libre per pollice sono due newton metro se sono 15 quelli e qui sono 17 ripetiamo la misura per maggior sicurezza dando un avvio graduale non a strapponi 15 quindi la il valore che prenderemo in esame per la valutazione della coppia da trito sarà 15 quindi se noi scriviamo 15 e in questa calcolatrice possiamo usare le unità di misura quindi usiamo le unità di misura di forza libra forza e poi di lunghezza pollice 15 libre forza per pollice convertiamo quindi inseriamo il valore della forza in newton forza un newton e poi metro convertiamo libre forza per pollice in newton metro mi dà 1,69 1,7 newton metro quindi se la coppia persa è di 1,7 newton metro dobbiamo adesso calcolare la coppia teorica erogabile avevamo detto che il numero di giri al minuto del motore è 1.330 per 2 per 3 14 diviso 60 sono 139 radianti al secondo come velocità angolare del motore la potenza di 0,18 kilowatt quindi 180 watt diviso 139 radianti al secondo sono 1,29 newton metro di coppia al motore per 7,5 abbiamo 9,69 9,7 newton metro di coppia all'albero d'uscita teorica quindi se noi a questo valore sottraiamo 1,69 4,77 togliamo quindi dai 9,69 newton metro teorici la coppia persa 1,69 spiccioli meno e lo dividiamo per 9 punto forse è il caso di far così un attimo recuperiamo il valore 9,69 quindi 8 è la coppia netta 9,69 sarebbe la coppia teorica diviso fin fuori 0,82 0,825 quindi il rendimento valutato in maniera abbastanza diciamo approssimativa ma comunque indicativo un valore indicativo del rendimento è circa possiamo dire 0,82 0,8 il rendimento di questa macchina con l'altro riduttore possiamo però fare lo stesso tentativo però l'irriversibilità del moto nell'altro caso è già diciamo scontata grazie a tutti